Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla videorubrica segnalazioni che vi mostra ciò che è sommerso dall'oceano di informazioni della rete. In questo video vorrei parlarvi di Cinefile. Cinefile è un sito dedicato al cinema che può interessare sia gli appassionati del cinema che ritrovano un archivio di film, recensioni, schede che coloro che sono invece più interessati alla didattica del cinema e quindi al linguaggio e alla tecnica cinematografica ma anche alla narrazione cinematografica. Questo è il link per collegarsi a Cinefile, il cinema da Alien a Zivago. Vediamo come si presenta il sito se vogliamo vedere gli articoli dedicati al linguaggio cinematografico, vedete, basta cliccare su tecnica o su articoli e ci compaiono qui sulla destra anche le icone e qui sulla sinistra un abstract col titolo dell'articolo, per esempio si tratta del piano sequenza, dei movimenti di macchina proviamo ad andare a vedere, vedete che potete trovare la teoria dei movimenti di macchina e la pratica dei movimenti di macchina con fotografie ma anche con esempi tratti, vedete, da film, questo mi sembra nell'orizzonti di gloria di Stanley Kubrick e così via i 400 colpi di Truffaut eccetera quindi è diciamo proposto in modo molto efficace in questo caso l'argomento sono i movimenti di macchina facendo sfoggio non solo di erudizione teorica ma anche dando degli esempi pratici. Ecco, questo era un esempio degli articoli che riguardano il linguaggio e le tecniche della cinematografia ma è molto interessante anche sceneggiature qui avete a disposizione tutta una serie di sceneggiature per esempio se clicchiamo su a torto a ragione vedete, viene scaricato un file zippato dopo che lo apriremo avremo, vedete, la sceneggiatura in lingua originale una sceneggiatura all'americana descrizione degli ambienti eccetera e più centrato, con i margini più stretti sempre centrato i dialoghi ancora può essere interessante per gli appassionati di cinema possono essere interessanti le recensioni o le schede dei film per esempio se andiamo su schede troviamo varie schede di film vediamo come si presentano sono schede molto sintetiche questo è Avatar vedete qui c'è un po' un riassunto breve della trama qui c'è un commento qui una scheda spesso c'è anche un percorso tematico cioè si rimanda a dei post attinenti al film che stiamo considerando come in questo caso così esploriamo anche questa sezione soundtrack le colonne sonore qui abbiamo dei post sulle colonne sonore vedete le colonne sonore di vari film anche qui possiamo entrare e vedete abbiamo informazioni sulle colonne sonore gli autori le caratteristiche interessanti e significative anche dal punto di vista cinematografico della colonna sonora e così via e poi vedete altre sezioni più tradizionali diario news un calendario eccetera insomma è un sito che consiglio a chi vuole contemporaneamente sia documentarsi anche come dicevo dal punto di vista della media education degli studi sui media in questo caso abbiamo a che fare con un media fondamentale o chi è interessato allo storytelling o l'ho detto in italiano alla narrazione ma anche per chi è più semplicemente appassionato di cinema bene vi ringrazio vi saluto alla prossima